Il governatore uscente della campagna, Vincenzo De Luca, sarà il candidato naturale alle prossime regionali. Una scelta voluta e dovuta dalla direzione regionale che riconosce al presidente De Luca 20 anni di amministrazione importante. Il governatore è un punto di partenza e un punto di arrivo. Il segretario regionale dei DEM l'è annunziato, ha ufficializzato così ieri sera l'esito della direzione del partito che si è svolta a Napoli. La decisione di ripartire da Vincenzo De Luca è stata presa all'unanimità dai presenti. Era una cosa dovuta da parte della direzione regionale, dovuta e voluta perché ci sono due motivi, uno di natura tecnica e uno di natura politica. La direzione regionale ha disposto in conformità al nostro statuto. Il nostro statuto prevede che il governatore uscente sia il candidato naturale alle prossime regionali e quindi il presidente De Luca. E poi per una motivazione politica perché il presidente De Luca è l'unico che negli ultimi 20 anni è riuscito a fare qualcosa di importante in regione Campania. Da ultimo l'ho riuscita dal commissariamento nella sanità e in altri ambiti importanti e strategici per la nostra regione. C'è ancora tanto da fare, partivamo da un punto di partenza assolutamente inferiore a una media nazionale. E quindi il presidente De Luca è stato l'unico che in qualche modo è riuscito a fare qualcosa di importante per la nostra regione. E dall'indomani dell'annuncio del passo indietro di Valeria Cerambino, attuale consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, la proposta del ministro per l'ambiente Sergio Costa, il segretario provinciale del PD Vincenzo Luciano ha commentato positivamente la scelta di andare da soli e non con i pentastellati. La candidatura del ministro Costa è stata una distrazione, ha detto, per condizionare le decisioni della direzione regionale del PD, che ovviamente non si è fatta influenzare. Il segretario regionale annunziata ha comunque proposto alla direzione del PD Campano di comporre una delegazione con i cinque segretari provinciali DEM per avere rapporti con le altre forze politiche che intendano costruire una coalizione di centro-sinistra, precisando di aver fatto un invito anche ai 5 Stelle, di aprire un discorso programmatico perché non sfugge il quadro nazionale.